Sappiamo tutti che le infrastrutture sono il futuro, 5G, tecnologia blockchain, satelliti, che tutte sono comprese nel nostro portafoglio azionario. Ma non dimenticate che nella sola Rotterdam si effettuano 270.000 spostamenti su trasporto pubblico al giorno. E chi meglio di tutti sa capitalizzare su questo dato? Secondo la Rotramax siamo noi, con i nostri autobus senza conducente a guida autonoma. Grazie al nostro software per il riconoscimento facciale di ultima generazione, anche la sicurezza dei pagamenti è garantita. Una comodità sia per i viaggiatori che per tutti gli azionisti. Grazie mille.